Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stragoneria e Paganesimo. Bene, allora oggi è giovedì e come tutti i giovedì dei microfoni di Radio Gamma 5 teniamo questa trasmissione. Ricordi che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano Tomarghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Ora, in questa trasmissione Francesco non c'è per impegni di lavoro, non ha potuto venire per cui non ci sarà nemmeno giovedì prossimo. Io avrei dovuto iniziare la trasmissione ricordando alcuni appuntamenti, sia del ritrovo che ci sarà a Montegrotto Terme, sia del dibattito prossimo che teniamo, sia del rito che terremo per l'equinozio di primavera. Però gli appunti che avevo fatto per questi appuntamenti me li sono dimenticati a casa. Pertanto non posso farvi gli annunci degli incontri, i prossimi incontri. Da giovedì prossimo comunque farò gli annunci di tutti gli incontri. Per cui mi spiace più che altro per questo inconveniente. Ora, visto che Francesco non c'è né oggi né giovedì prossimo, io ho praticamente uno spazio di quattro trasmissioni da sfruttare per fare un discorso lineare, un discorso che vada dall'inizio alla fine, relativo a cose della stregoneria che sono abbastanza importanti. E allora, uno dei motivi per cui mi sono anche dimenticati questi appunti è che ieri ho avuto da fare come un matto per riuscire a prepararmi un po' questo tipo di lavoro dopo che Francesco mi ha telefonato, mi ha telefonato che oggi non avrebbe potuto essere in trasmissione. Che tipo di lavoro è che vi preparo? In realtà è un lavoro che tratta della stregoneria e della magia. In pratica, si tratta di riuscire, io dovrei riuscire a farvi capire come la stregoneria e il paganesimo politeista considerano l'uomo. Cioè, la stregoneria fa certe azioni, mette in atto certe scelte perché concepisce l'uomo in un certo modo. Naturalmente, questo vale per la stregoneria e il paganesimo politeista come vale anche per il cristianesimo. Cioè, il cristianesimo mette in atto delle strategie religiose, delle strategie di vita perché concepisce l'uomo in un certo modo. Cioè, la sua concezione dell'uomo e della relazione che ha fra l'uomo e l'ambiente, sia nel cristianesimo sia nel paganesimo politeista, che portano a tutta una serie di scelte e tutta una serie di modi di concepire la vita, di affrontare la vita, di risolvere i problemi o tentare di risolvere i problemi. Pertanto, da come si pensa l'uomo, da come si pensa alla vita, da come si pensa alle relazioni fra l'uomo e il mondo, all'uomo e l'ambiente, così scorrono e discendono quelle che sono le strategie di esistenza degli individui. E riuscire a far capire com'è l'uomo in stragonaria non è difficile, non è neanche semplice. Però, un conto è che ne parli io, cioè, un conto è che io lo dica, come ve l'ho già detto in questi dieci anni di trasmissioni molte volte. Un altro conto è invece di fare questa operazione che sto tentando di fare in queste quattro trasmissioni, e cioè parlarvi dell'uomo visto dalla stragonaria in base alle ultime ricerche scientifiche e in base agli ultimi risultati, alle ultime ipotesi teoriche, sia di psicologia, sia di neurologia, sia di analisi medica e sia di ricerca antropologica, ricerca della vita animale. In pratica, io sì vi dico ciò che è l'uomo dal punto di vista della stragonaria, ma non vi dirò come quel deficiente cretino, in verità, in verità vi dico. Una volta lo si faceva, gli stragoni lo facevano una volta, cioè quando dovevano prendere le persone e portare le persone alla consapevolezza che la vita è un processo di trasformazione continua. E allora cosa facevano gli stragoni antichi? Individuavano delle persone che potessero essere sensibili e le seguivano passo a passo in modo da indurli al cambiamento psichico, al cambiamento culturale, al cambiamento emotivo, a cambiare il punto di vista sul mondo, a considerare il mondo diverso. Gli antichi stragoni facevano in questo modo. Poi è successo che dal 1789 l'illuminismo è riuscito a sconfiggere l'oscurantismo cattolico e la scienza ha cominciato ad avere spazi. Naturalmente se noi prendiamo la scienza di 300 anni fa fa un po' ridere, era anche dietro a quella che era la scienza degli antichi, molto dietro. Però sapete, uscire dall'orrore cristiano è uno sforzo notevole, uno sforzo no indifferente e per farlo e nel farlo si commettono anche errori. Si parte sempre dal punto di vista cristiano di aver raggiunto una verità. In realtà tutto il discorso, tutta la trasformazione della scienza non sono il raggiungere la verità, perché la verità non esiste, ma è il rimuovere quegli ostacoli e quelle limitazioni al sapere e alla conoscenza che porta l'uomo a dilatare la propria ragione, la propria capacità di descrivere il mondo. E così siamo arrivati dalla rivoluzione francese nel 1789 quando ipoteticamente viene a concludere quella che è stata la prima grande fase della stragoneria, cioè dall'Ottocento di Carlo Magno che fa tagliare la testa a 4.500 Pagani Sassoni al 1789 quando la gente taglia la testa al Dio Padroni chiude la prima fase della stragoneria e apre la seconda fase della stragoneria. E in quella fase della stragoneria c'è tutto il processo di sviluppo scientifico. Ebbene, oggi io parlo dei microfoni di questa radio nei primi giorni di febbraio, il 2 febbraio del 2006. Il 2 febbraio del 2006 io sono avvantaggiato rispetto a tutti gli altri e mi posso permettere di usare la scienza a dimostrazione di quelli che sono gli assunti, di quelle che sono le idee fondamentali, le idee fondanti della stragoneria. E leggere l'uomo e la collocazione dell'uomo dal punto di vista della stragoneria però in base a quelli che sono gli ultimi dati della ricerca scientifica che mi appaiono come articoli di giornali, cioè ricerca scientifica divulgativa al massimo, cioè proprio semplificata come ipotesi, come tesi di lavoro, come tesi di intervento, proprio a livello minimo che sono le notizie che abbiamo dei quotidiani di stampa. E questo è il discorso che voglio fare io. È un discorso abbastanza lungo ed articolato. Penso che mi porterà via tutte e quattro le trasmissioni, ma se dovessi finirlo prima non c'è problema perché tanto ho una valigia di documenti con me, non c'è nessun problema. Per cui porterà via questa trasmissione, la trasmissione fra le 19 e le 20 e le due trasmissioni della prossima settimana. Tutto il discorso nell'insieme praticamente tocca sei temi fondamentali. Il primo tema, l'uomo come parte della natura, gli animali e le relazioni con l'uomo. Due, questioni psichiche della vita fetale, è il primo mondo della vita, poi muore il feto e nasce il bambino. Il terzo tema, il terzo argomento, è muore il feto, nasce il bambino, la magia dell'espressione della crescita nel bambino. Quattro, alcune questioni sulla capacità di percezione e di relazione magica dell'uomo nel mondo, il suo cervello, la sua percezione della vita e della realtà. Cinque, muore il ragazzo, nasce l'adulto, siamo nel terzo mondo della vita, alcune questioni da considerare nella propria esistenza. E il sesto, parleremo della meditazione e del cervello in relazione alla meditazione. Questo è il progetto, diciamo così, che voglio sviluppare in quattro trasmissioni e partendo esattamente da una serie di articoli giornalistici. Prima di iniziare il discorso della stragonaria, dobbiamo comprendere innanzitutto qual è il concetto dell'uomo, qual è la relazione fra l'uomo e il mondo che esiste in questo momento.